Sicuramente un'operazione tardiva, un'operazione che arriva dopo che mesi fa la Commissione europea, l'Europa e tutto l'intelligence a livello mondiale avevano comunicato agli Stati europei di tenere alta l'attenzione. Un'operazione che sicuramente ha portato un risultato, ma è un piccolo risultato in una situazione di tensione, in una situazione che si va aggravando sempre di più. È un risultato che arriva dopo che la Lega da mesi aveva continuamente comunicato e continuamente chiesto a questo governo, in particolar modo al Ministro Alfano, di aumentare l'attenzione tra i migranti di prima e di seconda generazione, tra coloro che in Italia ci vivono, che potrebbero essere il nostro cosiddetto vicino di casa. E quindi nel momento in cui si inizia e le forze dell'ordine iniziano a ragionare in questa direzione, ben venga il lavoro che viene fatto dalle forze dell'ordine. Però non basta, non basta perché l'attenzione deve essere sempre alta, soprattutto tra coloro che si sa, si sa perché si sa attraverso i social network, si sa attraverso le attività che fanno, le intercettazioni, e quindi si sa in che direzione stanno andando. Mi fa particolarmente pensare però il fatto che in questo momento Alfano stia anche togliendo i fondi alle varie forze di polizia, in particolar modo alla polizia postale che è quella che controlla internet e di conseguenza è quella che più di tutti sta facendo un lavoro di contrasto al terrorismo.